Salve a tutti ragazzi e bentornati su Match Doing Oggi andiamo a vedere l'evento con la Giulietta E alla fine ho deciso che porterò la gara e poi l'evento con l'M330 Ricordo che gli aiuti di guida che utilizzerò sono sempre gli stessi E la difficoltà degli avversari per ora lascerò sempre il 93% E prima di portare la gara ovviamente ho fatto il time attack Così per riprendere un po' di dimestichezza con il circuito di Maggione Quindi ci vediamo in pista Porco 2 1 2 3 4 5 6 6 Ci stanno 10 secondi dopo si spegne sto coso Assurdo Non fa un culo eh Mi sono rotto il cazzo Prevatevi dai coglioni Se sto presso a voi Cioè andare di traverso con una Giulietta Una Il fatto 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 Vi spero una cazzo, vi faccio il culo Vi faccio il cuore Porco due Te spacco Come arrivo Sto arrivare Aspettami Un po' per campi Queste gomme stritte Che non tengono un cazzo Zero aderenza Zero tenuta Arrivo Sto arrivando Full gas Quasi full E se non è questo Di giro al prossimo Intanto non mi entrano le marce Bello Cioè se il cambio manuale del G920 non è fatto proprio benissimo Scusami amico scusa Non volevo leo Solo è Ciao Uuuuuh Mamma mia è staccatona al Ricciardo proprio Alla prossimo Alla prossimo Scusami amico Grazie a tutti. Grazie a tutti. E ve' lungo. C'ho la gomma anteriore sinistra a 97 gradi, assurdo. Grazie a tutti. Dai, questo è il giro veloce. Tiro veloce, su su. Non è vero che ho ancora niente. No, ho finito la benzina. Ho finito la benzina. Ho finito la benzina. E' stato arrivato primo. Non ci credo. Che taglio. Spettacolo, spettacolo. Allora, andiamo un po'. Anzi, intanto c'è il cane sta distruggendo la porta che vuole uscire dalla camera. Ok ragazzi, gara assurda. Durata pure un botto. Perché erano cinque giri. Quindi direi che il time attack è bello. Medaglia d'oro. Bella. Mi piace. Il time attack lo rimandiamo al prossimo evento. Quindi niente. O se no, che dite? Lo faccio ora? Sì, dai. No. No, lo faccio la prossima volta, dai. Quindi ragazzi, finiamo qui il secondo gameplay su Asset Corsa. Per questo video è tutto. Lasciate un bel mi piace. Commentate. Iscrivetevi al mio canale YouTube. Alla mia pagina Instagram Mitch Tuning. Per questo video è tutto. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti.